Suicidio assistito nelle marche il secondo caso in Italia Elezioni nel PD Rosetta Fulvia al posto della rinunciataria Morani Fiera di San Nicola, costi degli affitti alti per gli ambulanti Piazza del Popolo si rifà il look, lavori dal 5 settembre Vispesaro, domani la presentazione a Chalet a Mare Una buona serata cari amici e amiche di Rossini TV Per questa nuova edizione delle Rossini News Telegiornale di mercoledì 17 di agosto Che apriamo con la notizia del fatto che saranno ancora le marche A vedere concretizzato il secondo suicidio assistito in Italia Vediamo Il secondo caso di suicidio assistito in Italia sta per materializzarsi nello stesso territorio in cui è arrivato il primo Ovvero ancora nelle marche Dopo il caso apripista del senigallese Federico Carboni morto lo scorso 16 giugno dopo aver avuto accesso al farmaco fine vita L'Asur delle Marche ha dato oggi il via libera al farmaco per l'aiuto al suicidio anche al 44enne marchigiano Antonio Nome di fantasia di un individuo tetraplegico dal 2014 e che da due anni ha avviato le pratiche per l'eutanasia Pratiche acceleratesi dopo che gli sono stati riconosciuti i requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito Previsti dalla sentenza costituzionale Cappato Antoniani DJ Fabo Al riconoscimento dei requisiti si è aggiunto il tassello che mancava Quello dell'accesso al farmaco fine vita Antonio, seguito nel percorso legale dell'associazione Luca Coscioni Aveva ripreso contatti con una clinica svizzera per concretizzare il suo fine vita Ma il via libera dell'Asur gli consentirà di porre fine alle sue sofferenze in casa attorniato da suoi cari Fino all'ultimo istante Quello di Antonio sarà il secondo caso in Italia in un percorso aperto dal ferminianese Fabio Ridolfi Che morì però scegliendo la sedazione profonda non vedendo sbloccare l'accesso al farmaco Ed ora la politica Ieri vi abbiamo dato la notizia della pubblicazione dei candidati marchigiani al Parlamento Per quel che riguarda il Partito Democratico Lista in cui ha fatto scalpore in queste ore la rinuncia della deputata uscente Alessia Morani Al collegio uninominale di Peser Urbino per la Camera Una rinuncia figlia di mal di pancia interni al partito che oggi il PD ha colmato proponendo come candidato al collegio Il nome del segretario provinciale Rosetta Fulvi nel caso non avvenisse un ripensamento della Morani Come auspicato dallo stesso partito Quelle che vi facciamo vedere ora sono delle immagini che fanno riferimento all'incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 11 in Viale Goffredo Mameli Incidente che ha visto coinvolti uno scooter scarabeo di cilindrata 50 e una Citroen C3 Secondo le prime ricostruzioni la macchina guidata da una donna avrebbe tentato di svoltare a sinistra Vietato vista la presenza della doppia linea continua e in proprio quel frangente il motorino guidato sempre da una donna stava effettuando il sorpasso sulla vettura Lo scontro ha provocato la caduta del cinquantino e della signora che lo guidava Sul posto l'ambulanza che ha prestato soccorso alla donna in scooter rimasta a terra dopo l'impatto non riportando però gravi ferite Intervenuti sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale per gestire la viabilità del traffico A poco più di tre settimane ritorna anche quest'anno il classico appuntamento con la fiera di San Nicola A tenere banco però sono i costi di affitto troppo alti per gli ambulanti come ci spiega il responsabile Anva con Fesercenti Giovanni Rinaldi Giovanni Rinaldi venditore ambulante di Pesero nonché responsabile Anva con Fesercenti Tre settimane alla fiera di San Nicola una fiera di San Nicola che però per la vostra categoria parte con problematiche relative ai costi difficili da sostenere Esatto è una fiera molto molto costosa tipo la mia bancarella che ha 8 metri per 4 quindi 32 metri linea e 32 metri quadri Paga circa 540 euro che è diviso tre giorni fa 180 euro al giorno Non esista peso a un negozio di 32 metri quadri che paga 180 euro di affitto al giorno Sono costi insostenibili anche perché poi siamo in mezzo alla strada non è che abbiamo un luogo chiuso Sono costi inaccettabili però noi abbiamo protestato con Pesero Parcheggi a quello che a vedere non gli interessa Questa è una situazione che può portare a qualche stallo inoccupato o anche a ambulanti che preferiscono concentrarsi su altre fiere rispetto a quella pesarese? Sicuramente sì, ogni anno avremo sempre meno ambulanti perché i costi sono esagerati C'è sempre l'incognita del tempo che fa parte del rischio del nostro lavoro però comunque lo dobbiamo mettere nel rischio del lavoro E con questi costi nell'arco di qualche anno faranno come le fiere di Fanno e Senigallia che andranno a morire con pochi ambulanti presenti e tanti spuntisti Per quanto riguarda il pagamento poi dobbiamo anche dire che il pagamento deve essere effettuato 20 giorni prima Ed è una cosa assurda che Pesero Parcheggi ci chiedi soldi 20 giorni prima Anche perché poi se due giorni prima o tre giorni prima mette tempo brutto magari uno può anche decidere di non andare Visto che ha le decennali e comunque quello è il suo posto Però se non si paga entro 20 giorni c'è un ulteriore aggravo del 10% è una cosa inaccettabile Però ripeto, Pesero Parcheggi non gli interessa assolutamente le nostre proteste Abbiamo fatto proteste anche l'anno scorso e ci hanno detto che c'erano costi per il personale per controllare il Green Pass Ed è venuta la metà della gente Non è che se in questi 10 anni non hanno aumentato i costi va bene Sono stati sempre cari ma nell'ultimo anno dove sono aumentati i costi dell'attività I costi per l'acquisto di materie prime è inaccettabile che non ci vengano incontro neanche con una minima riduzione Diamo ora spazio alle vostre segnalazioni come quella che ci è arrivata questa mattina da un telespettatore Che ha lamentato la situazione di inciviltà e disagi presenti nel parco della Biblioteca San Giovanni Dopo sei mesi quando il parco della Biblioteca San Giovanni era ricoperto di foglie Successivamente ripulito dalle autorità competenti Siamo tornati sul posto per problematiche di diverso tipo che stanno attanagliando i residenti di Via Massimi da diverso tempo Qui alla notte si bivaccano e non è una cosa bella vedere quanto arrivo a casa a mezzanotte e a luna Che vedi questa gente tutta a rugolone per dire, ha detto pesarese In più è la bella questione dei cani, i cani qui dal mattino alla sera è sempre pieno Li lasciano senza guinzaglio, quelle donne che fanno finta di telefonare per non raccogliere Dopo diventa un parco sporco, poi ci sono i segnali che i cani non si possono portare Se ha detto qualcosa queste persone, hanno risposto che questo l'hanno fatto apposta come sgambatoio per i cani Che io penso che non sia una cosa vera Anche se fosse quanto raccogliono, in mezzo all'erba rimane sempre lo sporco degli escrementi I bambini giocano, passano sopra, si buttano per terra Quelli raccogliono nei vestiti, tutto Penso che non sia una cosa igienica Questo è un provvedimento che devono prendere qualcuno Questa problematica è anche quella dei ragazzi che magari possono dormire qui nudi Come ha detto lei, è una problematica che va avanti da quanto tempo? All'ultima mezza stamattina qui erano due, tutti i mezzi nudi A dormire qui da ieri sera, gli hanno detto qualcosa a una signora là Gli hanno mandato a fanculo per dirla chiaro Dopo si va a trovare rogni perché urlavano come i mati a mezzanotte Io non sono intervenuto perché è capitato altre volte Rispondono male e non voglio litigare Quindi cosa chiedete al comune o chi di dovera? Devono venire a vedere I vigili qui vengono alle 11 e mezza Quando non c'è quasi nessuno E la sera alle 5-5 e mezza si ferma Stanno 20-10 minuti, un quarto d'ora Lì a vedere Ma devo venire anche negli altri orari Quanto veramente alla notte c'è bisogno Cerco di pulire con dei miei colleghi anche il parco Le vie qui di Minitrofe E poi dopo che faccio sto servizio Mi trovo che sta gente qui viene a sporcare davanti a casa mia Non mi sta bene In Piazza del Popolo, come già annunciato Verrà rifatta la pavimentazione Ed ora è stata resa ufficiale la data di inizio dei lavori Dal 5 settembre partiranno le operazioni di manutenzione straordinaria Come comunicato questa mattina dall'assessore Alfare Riccardo Pozzi Che ha presentato gli step del cantiere La prima delle tre tappe individuate Prevede la rimozione dei sanpietrini La sistemazione del manto E il riposizionamento dei mattoncini In una delle due metà della piazza Lo stesso procedimento sarà poi utilizzato ad ottobre Per l'altra metà della piazza Il terzo step invece coinvolgerà la fascia laterale della piazza Che corre davanti alla sede del comune Le immagini che vi mostriamo ora invece fanno riferimento All'operazione condotta questa mattina dai vigili del fuoco Dove tra via Canale, Angolo e via Morosini È stato rimosso un ramo pericolante da un albero L'intervento è avvenuto intorno alle 7.30 E ha visto impegnate due camionette dei pompieri Alle prese con un ramo che era caduto parzialmente E che successivamente è stato del tutto tagliato E la regione Marche attraverso l'assessore all'istruzione Giorgia Latini Ha comunicato di aver ricevuto nell'ambito delle PNRR Oltre 21 milioni di euro Per gli asili nido e le scuole dell'infanzia regionali Sono 22 i progetti presentati dai comuni marchigiani Entro la scadenza fissata a febbraio 2022 L'obiettivo è quello di consentire la costruzione Messa in sicurezza degli edifici scolastici Al fine di migliorare l'offerta educativa Queste risorse si aggiungono agli oltre 8,5 milioni di euro Previsti sempre per l'innovazione delle strutture scolastiche Sabato 20 agosto alle ore 17.30 All'interno della Sala degli Specchi del Museo Nazionale Rossini Verrà presentato il catalogo della mostra Intitolata la ricezione della commedia dai manuscritti ai media L'incontro arriva a seguito della mostra Che si è conclusa il 25 giugno 2022 a Palazzo Corsini E per l'occasione presenteranno la serata Marco Guardo e Daniele Carnini Rispettivamente direttore della Biblioteca dell'Accademia Nazionale di Roma E direttore editoriale della Fondazione Rossini Il weekend del 19, 20 e 21 agosto Si potrà tornare a degustare vino passeggiando per il borgo medievale In occasione di gradare a Wine Passion Come ogni estate dal 2016 l'antico borgo Ospiterà per questo fine settimana un evento Dedicato ai migliori vini e cantine del territorio Alla cultura e alla riscoperta delle eccellenze dei sapori locali Da giovedì 18 a domenica 21 agosto Tornerà in presenza l'evento fanese Dedicato ai più piccoli del Paese dei Balocchi Ora nel prossimo servizio di Simone Celli Vi riproponiamo il programma Il tempo è uno sconosciuto che passa e che va? Oppure un compagno di viaggio? È questo il grande interrogativo che si pone quest'anno il Paese dei Balocchi Una festa lunga quattro giorni dedicata ai più piccoli Ma che da sempre pone l'attenzione su temi quanto mai cruciali Quello di quest'anno è appunto il tempo Il senso del suo inesorabile trascorrere sarà il fil rouge del ricco programma Preparato per il grande ritorno in presenza della manifestazione In scena dal 18 al 21 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano Il tempo che qualcuno ci sfila dalle tasche Non sappiamo come Viviamo di preoccupazioni e no di occupazioni E quindi molto spesso ci scordiamo che il tempo passa e va Il tema di quest'anno è fantastico E al di là delle lucubrazioni filosofiche Perché veramente anche seguendo gli impulsi tecnologici Il tempo si è sempre più ridotto Abbiamo sempre meno tempo Per cosa meno tempo? Meno tempo per essere felici Meno tempo per riflettere Meno tempo per guardare una giornata di sole, un filo d'erbo o quanto altro Questa non è poesia, è vita, è qualità della vita Quindi il paese di Bellocchi ancora una volta secondo me Trova e fa centro con un argomento potentissimo che riguarda ognuno di noi Grandi suggestioni che come sempre verranno declinate nelle mille forme del gioco Spettacoli, incontri, laboratori e allestimenti creati per l'occasione Incarneranno valori pesanti sì, ma espressi con grande leggerezza Proprio come in una favola Il piatto forte come sempre saranno gli ospiti Beh, sicuramente comincerai dal sindaco Un sindaco d'eccezione, Luca Barbarossa Chiaramente siamo molto contenti di portarlo E grazie anche alle tratture di Tony Bungaro E poi il giorno dopo avremo Max Paiella Altro personaggio di Radio 2 Che ci verrà a raccontare una bella storia E poi tutti i quattro giorni avremo laboratori, spettacoli, musica E tutto quello che ormai conoscete del paese di Bellocchi Però con queste due grandi punte di diamante Due le principali novità Il parco di mangiafuoco dedicato ai giochi di una volta E lo spazio Slurp per insegnare sin da subito ai bambini a mangiare in modo sano Esatto, ogni anno noi aggiungiamo qualche pezzo E il pezzo che aggiungiamo quest'anno si chiama Spazio Slurp È dedicato alla cultura dell'alimentazione per i bambini E qui in sala alimentazione Quindi secondo me è importante quello che stiamo facendo E soprattutto è dedicato a Gino Girolamori Che è stato un grande sindaco del paese di Bellocchi Barbarossa riceverà la fascia di sindaco giovedì 18 agosto alle 21 Prima però i bambini si potranno divertire grazie ad alcuni laboratori ludico creativi Tra le attrazioni di questa edizione è anche il ludobus dei Balocchi La serata di venerdì sarà invece dedicata alla sostenibilità ambientale Anche grazie allo spettacolo di Max Paiella Poi spazio al progetto Wonder e alla musica dell'associazione Rewind Sabato ancora giochi ai laboratori Ma anche letture e un'introduzione all'architettura grazie al centro studi Vitruviani La sera ancora spettacoli e musica Domenica in programma anche giochi in inglese e concerti Fino al gran finale con i fuochi d'artificio E lo spettacolo di chiusura quello non può mancare Quello ormai è un must alle 23 della domenica Alcmeda Studio farà il suo spettacolo pirotecnico e musicale Come sempre ormai degna conclusione Ed ora il nostro spazio dedicato ai libri Andiamo ora a conoscere la nuova fatica letteraria dell'ex sindaco di Petriano Gianmarco Cecconi Vediamo Gianmarco Cecconi ex sindaco di Petriano Alla sua terza esperienza letteraria Terza pubblicazione che questa volta è un romanzo storico Carletto di Petriano innanzitutto chi era? Allora Carletto di Petriano è stato un personaggio storico che è vissuto nel 1502 La storia che ho voluto fare, il romanzo storico Nasce proprio da un'esperienza bibliografica Io avevo avuto a che fare con Carletto di Petriano Perché mi sono imbattuto nella lettura di un seminario del 1788 Dell'arciprete Lazzari Che parlava all'Università di Urbino Ha elencato una serie di nomi di virus illustribus della provincia di Pesaro E tra questi virus illustribus Ha citato anche questo Carletto di Petriano 1502 Carletto di Petriano Mette insieme un esercito di civili E rimanda indietro Cesare Borgia Che vuole conquistare il Ducato di Urbino E questa è la storia da cui parte il mio romanzo storico È una ricerca lunga molti anni Che purtroppo ad un certo punto è franata Perché le notizie su Carletto di Petriano Non erano così tante come quelle che io mi aspettavo Quando ho iniziato la ricerca Per cui ad un certo punto sono arrivato ad un bivio O smettere la ricerca Oppure tentare in un altro modo di far conoscere Ai cittadini di Petriano E non solo chi era Carletto di Petriano E quindi da qui nasce l'idea di un romanzo storico E quindi nel romanzo che io ho scritto C'è tutta la storia di Carletto di Petriano Che io ho romanzato Ma in un contesto storico Che è quello dell'Urbino del 1502 E non solo Insomma anche gli anni prima dell'infanzia di Carletto Nel quale In Urbino in quel periodo Vivevano un sacco di personaggi famosi Importanti per la storia d'Italia non solo E quindi ho fatto in modo che Carletto incontrasse Raffaello Sanzio E incontrasse Leonardo da Vinci E appunto Cesare Borgia E tutti i personaggi storici Che in quel momento vivevano in un Urbino Che era il centro della cultura italiana ed europea Ecco quindi Nasce così E questo è l'origine di Carletto da Petriano Il libro si trova in tutte le librerie Ovviamente in tutti i canali Dell'ebook e-commerce Quindi IBS, Amazon eccetera eccetera E poi ci tenevo a ringraziare Ludovica Brugnoni Che è la ragazza Una studentessa della scuola Manzoni Dove io insegno Che ha fatto le illustrazioni Del mio libro Ha avuto i capitoli Nei quali io volevo fare le illustrazioni E poi ha interpretato nel migliore dei modi Le ricostruzioni storiche che io faccio All'interno del libro Quindi grazie E soprattutto mi ha trasmesso anche molto entusiasmo Per anche riuscire a finire un lavoro così lungo Come la pubblicazione di un romanzo storico La seconda stagione in Serie A1 Il prossimo 22 ottobre Primo incontro con i tifosi anche per la Vispesaro Che nella serata di domani Alle ore 21 presso lo stabilimento Chalet Amare in zona Sottomonte Presenterà la nuova squadra in vista Della stagione che sta per partire Sabato 20 agosto Poi ci sarà anche la prima apparizione dell'anno Allo Stadio Benelli Che vedrà la squadra di Mister Sassarini Affrontare il Gubbio alle ore 17 E con le notizie di sport Si conclude qui questa nuova edizione Del nostro TG Prima di salutarci però vi ricordo Gli appuntamenti in serata Questa sera infatti alle ore 21.20 Ci sarà una puntata Della passata stagione Del Green Tour La puntata è dedicata al paese di Monbaroccio Prima stagione di Green Tour In attesa della seconda Che partirà il 13 settembre Su Rossini TV E poi come sempre vi ricordo L'appuntamento per domani mattina Con Buongiorno Rossini La rassegna stampa dei quotidiani Della provincia di Pesaro Urbino E poi vi ricordo anche di scaricare La nostra app L'app di Rossini TV Dove potete comunque seguire le notizie I programmi E scoprire altre novità Sull'app E quindi potrete seguirci Oltre che alla TV Anche sul vostro smartphone E con questo è veramente tutto Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata